La storia sanmarinese è un affare complicato, mille vicende di questo piccolo staterello che affonda le sue origini tra il mito e la leggenda, e che combatte per la stragrande maggioranza dei secoli, di cui abbiamo notizia, per affermare la sua autonomia, difendendosi da nemici, tentativi di invasione e il sempre presente zampino dello stato della chiesa, che tenta a più riprese di intromettersi nelle vicende del titano. Per ripercorrere le orme dei nostri antenati, attori protagonisti delle vicende che vi abbiamo narrato finora, ci siamo avvalsi dello studio di una buona mole di materiale storiografico, saggi, monografie e articoli di vari studiosi che si sono occupati della materia sanmarinese con grande serietà e rigore scientifico. Tuttavia, senza fare un torto a nessuno, se dovessimo segnalare un solo nome, un solo studioso, un solo storico con il quale è necessario interfacciarsi per narrare le nostre vicissitudini, per quantità e qualità delle pubblicazioni, per la trasversalità degli interessi e per l'impegno nella divulgazione dei risultati ottenuti con le sue ricerche, tanto da diventare lo storico di San Marino per antonomasia, non possiamo far altro che citare il nome del prof, Werther Casali. Con quasi 30 monografie all'attivo, Werther è il punto di riferimento per appassionati studiosi e per le nuove leve, dal momento che sul suo manuale si sono formati generazioni e generazioni di studenti e studentesse dei nostri licei, licei nei quali Werther è stato professore di storia e filosofia fino a pochi anni fa. Ora si goda la sua pensione, ha più tempo per scrivere e ricercare e noi ci godiamo i frutti della sua attività. Ben inteso, questa non è una captazio benevolentie verso il prof Casali, che non ne ha certamente bisogno, ma un omaggio sincerissimo e sentito verso uno storico che ha speso 40 anni della sua esistenza per arricchire il patrimonio culturale dei suoi cittadini e, più in generale, di chiunque voglia occuparsi delle vicende nostrane. E' quindi con un piacere infinito e anche con un filino di emozione che oggi il progetto di Storia in Flanella va ad arricchirsi della collaborazione di Werther Casali. Ci occuperemo insieme di qualche vicenda davvero curiosa del nostro 700, ospite d'onore della nostra chiacchierata sarà niente meno che Napoleone Bonaparte, che ebbe gran stima verso la nostra Repubblica. Gli ideali napoleonici però poi scatenarono una rivolta al cardiopalma, la cosiddetta mossa, un avvenimento importantissimo che ci darà modo di ragionare anche su un paio di nodi spinosi che al tempo non erano ancora stati risolti nella nostra, vedrete, non così felice Repubblica. La molle di lavoro per questa serata è considerevole e non potremo avere una guida migliore per affrontarla, quindi io non voglio portare via altro tempo al nostro ospite e pronti per la mia chiacchierata con Werther. Mi scordo ogni volta ma prima devo lanciare la sigla. Luca, sigla! Delirante voce narrante prestata al nobile servizio della divulgazione storica. Sono Giuseppe Giardi, benvenuti e benvenuti su Storia in Flanella. La cosa impressionante è stata ad esempio anche l'ultima volta che abbiamo registrato per il Belzoppi, noi siamo tutti preparati un pochino, la nostra scaletta a te sei arrivato. Io non sapevo niente, non mi avevo detto niente. Bene, oggi di cosa parliamo? Sì, sapevo Belzoppi ma sai è vasto l'argomento. Io oggi sono stato un pochino più bravo e quindi ti ho già un pochino anticipato. Sì, secondo me a metà del 1700, Napoleone, Amazon Doblone, questa gente qui. E un po' di cose all'intorno. Allora oggi, professor Casali, Werther, sarò io a interrogarti. Grazie mille per aver accettato veramente il nostro invito e grazie per essere qui, per noi è un onore smisurato. Grazie a voi perché mi fa piacere, ecco, c'è una trasmissione che funziona e quindi è bene esserci. Ottimo, siamo davvero contenti, soprattutto siamo contenti di sapere che ci hai già seguito e quindi sai precisamente dove siamo arrivati. Noi nell'ultimo episodio abbiamo cercato di raccontare a modo nostro la vicenda alberoniana, quindi ci siamo lasciati con le parole dell'Enriquez che ridà a San Marino lo stato di prima, quindi che sia libertà o non libertà decidetelo voi, dice l'Enriquez. e riprendendo proprio le pagine del tuo manuale, tu per i primi 40 anni parli di una vita sonnecchiosa o qualcosa di simile per i primi 40 anni dopo l'invasione. A cosa ti riferisci? Beh, c'è una fase di tranquillità in cui non è che succedono tante cose a San Marino, poi dopo succedono tutte in una volta, diciamo dagli anni 80 fino alla fine del secolo. Quindi c'è un periodo dopo l'Alberoni in cui le cose sembrano sistemarsi e il Consiglio è tornato ad essere composto da 60 persone, non ci sono tante contestazioni almeno, insomma, non emergono dalla documentazione che c'è rimasta. C'è sempre un'effervescenza all'interno del paese che poi porterà alla rivolta, alla mossa del 1797 e alle contestazioni in epoca risorgimentale, perché ci sono sempre due anime all'interno del paese, una filo papale, una guelfe e una ghibellina. Ghibellina, questo abbiamo cercato di evidenziarlo sempre, bene che me lo confermi. Sì, sì, perché c'erano persone che ovviamente guardavano ai preti con grande sospetto, anche tra i governanti, ma c'erano anche sanmarinesi che invece vedevano, insomma, nel dominio, nell'eventuale dominio dello Stato Pontificio, una possibilità per migliorare la situazione. Per cui questo è un leitmotiv che dura finché dura lo Stato Pontificio, fino alla seconda guerra dell'indipendenza. Ecco, per cui c'è questa effervescenza, però non porta ad episodi eclatanti come quelli che succedono nel 37, nel 38, con le carcerazioni, con le rivolte palesi contro l'oligarchia. Ci sono i libelli infamatori, però quelli che continuano a circolare anonimamente, nottetempo, che a volte sono attacchi personali a Tizio Caio, a volte invece sono attacchi politici, proprio al sistema oligarchico che si era consolidato soprattutto nel corso del 1700. Perché nel 1600 non ci sono questi problemi, almeno non emergono più di tanto, perché ancora c'è una dimensione, per quanto oligarchica, perché l'arengo non esiste più, insomma, nelle sue funzioni politiche, però insomma c'è più democrazia, più ascolto del popolo. Il 600 è un altro secolo rispetto al 1700. Il 1700 segue le orme un po' europee, con l'accentuarsi dell'assolutismo, che da noi non è assolutismo, ma è oligarchia. Questo accentuarsi dell'oligarchia porterà, l'avevamo già visto con l'Alberoni in qualche modo, perché comunque io ho cercato di enucleare le cause che hanno portato all'invasione dell'Alberoni. C'è il discorso di Carpegna che viene ripresa dagli Asburgo Lorena. E poi dall'altra parte c'è sicuramente una ingerenza papalina, che ogni volta che può cerca di mettere lo zampino nei nostri affari. Però dall'altra parte io ritengo che l'Alberoni abbia provato anche a applicare intelligentemente la strategia del divide-timpera, perché c'era una problematica interna, come dicevi te, allo stato sanmarinese. Cioè c'era già una parte sanmarinese che vedeva questa possibile dominazione papale come una sorta di miglioramento forse dello status quo. Ad esempio mi viene in mente nel frangente secolo di cui ci stiamo parlando l'assassino di Lolli. Dopo l'assassino di Lolli ci sono tu, di Virginio Lolli, esatto, dell'82. Dell'82. Tu parli di sanmarinesi che vanno a richiedere aiuto proprio allo stato della chiesa, soprattutto preti. Quindi questo ci fa anche domandare, ma sia vero la nostra autonomia, però quando poi abbiamo un bisogno andiamo effettivamente, o una parte dello stato, quindi queste due anime si riconfermano, va a chiedere aiuto a Roma. Sì, certo, ma poi non soltanto nel 1700, anche nel 1834 c'è un episodio con un libello infamatorio che è contro Antonio Nofri, che era una figura centrale nel 24, mi sono sbagliato, di una decina di anni. C'è questo upuscolo che viene inviato a Roma con la richiesta appunto di, diciamo, impossessarsi della Repubblica perché rimano un branco di manigoldi. Quindi è un discorso trasversale che rimane fino alla caduta dello stato pontificio. Quindi nel 1700 si accentua perché comunque c'è un'anima repubblicana all'interno di certe famiglie, tipo i martelli del borgo, che saranno al centro poi di tutte le contestazioni all'oligarchia. Fino a Telemaco Martelli, che è una figura chiave della Rengola del 1906, insomma, erano, diciamo, avevano la consapevolezza che la nostra era una repubblica di nome ma non di fatto. Non di fatto, certo. Perché una repubblica presuppone la partecipazione del popolo alla nomina dei politici, insomma, dei consiglieri nel nostro caso. Invece dal 1600 in poi, dagli statuti del 1600 in poi, questo non succede. La Rengo sopravvive come entità semestrale, dove avanzare le suppliche, come vengono chiamate nel 1700, proprio anche il linguaggio dà la dimostrazione di come effettivamente fossero ormai sudditi di un principe. Il consiglio dei 60 si chiama principe sovrano, le istanze da Rengo prendono il nome di suppliche. E questo, insomma, il linguaggio lo dice chiara su quello che era successo in Repubblica. Poi dopo la situazione della nobiltà, tutto quello che verrà contestato nel 97, ma anche successivamente durante l'epoca risorgimentale, e con la richiesta di riconvocazione del Rengo proprio per giudicare il consiglio principe sovrano. Cosa che non succederà perché io faccio il paragone con gli stati generali francesi. Quando vengono riconvocati scoppia la rivoluzione francese. Gli stati generali dal 1614 non vengono più convocati in Francia e si insedia l'assolutismo ben rappresentato da Luigi XIV, ma poi anche dal XV, XVI, a cui taglieranno la testa. Però insomma, ecco, è quello che succede un po' anche a San Marino. Sono dettagli, insomma. Sì, noi non tagliamo la testa a nessuno, però questa oligarchia diventa sempre più potente. Ho parlato in quella conferenza che ho fatto su 700 dell'importanza che assume la congregazione generale nel 1700 e quella è proprio la chiara dimostrazione che ormai il potere non è nemmeno più come era stato suddiviso dagli statuti nel 1600, dove c'era una parte di consiglieri che doveva provenire da città e borgo e una parte dal contado, ma ormai chi comanda sono i nobili riuniti nella congregazione generale. Quindi questo dà molto fastidio a chi si sentiva repubblicano, perché un'anima repubblicana, sotterranea perché più di tanto non poteva apparire, perché erano poche, poche persone, sopravvive ed emergerà chiaramente nel 97, nel 1848, emergerà periodicamente fino al 1906, fino alla regola. E' una linea che ogni tanto emerge, non con frequenza, però ogni tanto emerge sicuramente. Quest'anima repubblicana adesso noi la dobbiamo tenere sottesa perché ancora non siamo arrivati al 97, la teniamo ancora buona in panchina, ma ci ritorneremo. Comunque mentre parlavi a me veniva in mente Polibio, perché fondamentalmente quello di cui parlavi è una forma degenerata della teoria del cambio di governo, che quindi parte da quello che dovrebbe essere un regime democratico, teoricamente una forma di governo democratica, e nel caso san marinese arriva prima un'oligarchia, poi addirittura nella mossa tu parli di una tirannide, quelli della mossa parlavano di una tirannide, quindi è evidente che c'è proprio questo grosso, questo motore che va avanti nella storia san marinese, ma che è una involuzione da un punto di vista democratico, piuttosto che è un'evoluzione. Ci vorrà poi un evento violento per fare ritornare la ruota indietro. Sì, poi ci vorrà soprattutto una cultura, diciamo, più di massa, perché il problema dei contestatori di questo periodo è che o sono anonimi con i libelli infamatori notturni, perché ci sono anche dopo l'episodio alberoniano, libelli che accusano i politici di essere dei tiranni degli oligarchi, anche prima del 97. Però sono sempre lì, insomma, sono poche persone che in qualche maniera hanno paura di manifestarsi. È una forma di dissenso debole. Sì, è un dissenso sotterraneo che lascia il tempo che trova, perché coinvolgere i contadini, che era la massa dei samarinesi, era impossibile. Li potevi coinvolgere, come succederà nel 1906, quando verranno coinvolti con la paura di tasse, con la concretezza. Il pane e vino, quello del 97, è ciò che coinvolge un centinaio di persone. Il discorso politico che viene fatto nel 97, poi questi qui si tirano indietro, perché comunque la cultura, la mentalità, ci vogliono sempre generazioni prima di cambiarle. Quindi siamo in piena mentalità oligarchica assolutistica. La gente educata a quello per cui attaccare il principe nelle sue funzioni era un assurdo per mentalità semplici. Lo potevano fare quei pochi colti che magari non appartenevano all'oligarchia, ma erano pochissimi. Certo. Era un pochissimi perché una strategia dell'oligarchia era proprio quella, appena uno aveva un titolo di studio, di renderlo nobile. Quindi c'era il trucco che lo attiravi a te e quindi a quel punto non ti si ribellava, perché la cultura ovviamente era quella che poteva stimolare la protesta. Esatto. Sì, sì, sì. E oltre a questa situazione quindi, da un punto di vista politico complicata, in cui c'è un'oligarchia dirigente fondamentalmente che detta un po' i parametri del gioco, ci sono anche problemi da un punto di vista legale, perché leggendo le fonti, uno su tutti il mason D'La Bona, ci sono bande proprio di scorrerie che oltretutto creano di nuovo tensioni e problemi con lo stato della Chiesa. Questo ce lo devi spiegare a te, però perché te ne sei occupato in maniera approfondita, quindi non ti rubo la scena. Sì, beh, anche all'interno di quella conferenza a cui tu hai assistito, che ho fatto sul Settecento, ho cercato di far capire quanto non fossimo un oase di pace. Esatto. Quanto non fosse quel paese idilliaco che emerge invece da una certa letteratura barocca. Che dobbiamo assolutamente, gli inglesi direbbero facciamo un debunk stasera, la buttiamo proprio sotto terra, non è così, non era un luogo idilliaco San Marino. No, no, ma probabilmente chi ha scritto quei testi non è nemmeno mai stato a San Marino. Certo. C'erano problemi politici nella penisola italiana e San Marino era visto come un oase di tranquillità, cosa assolutamente non vera, perché il Settecento, probabilmente anche nel Seicento, che andrebbe approfondito, però il Settecento è un secolo piuttosto violento dove avvengono vari omicidi del periodo che stiamo trattando io e te adesso in questo momento, no? Quello famoso di Virginio Lolli e della sua serva, che vengono accoltellati. La voce popolare dice addirittura da Francesco Manenti che il fatto avviene nell'82, lui nell'84 viene addirittura nominato reggente, insomma, no? Perché faceva parte di quella nobiltà che era intoccabile. Certo. Questo è un fenomeno che si vede anche in precedenza con i vari Pietro Lolli, che tra l'altro era un fratello di Virginio Lolli, che uccide uno, però, insomma, dopo pochi mesi di carcere, in pratica, viene scarcerato. Per cui c'era una giustizia che viaggiava a due velocità. Sì. Terribile per i disgraziati che venivano frustati, venivano puniti, venivano esiliati soprattutto, e molto soft, invece, per chi apparteneva all'elite della società. Questo succederà anche successivamente, no? Dopo ti racconterò un aneddoto su un personaggio di quelli che animano la mossa del 97. Ottimo. E quindi questo Francesco Manenti, il cui nome era stato ascoltato mentre urlava pietà, perché questo qui lo stava coltelando, questo Manenti, il suo nome era stato ascoltato da un prete che passava lì nei pressi della sua abitazione. Sua abitazione, tra l'altro, era quella attaccata all'attuale Museo di Stato, vicino alla Piazzetta Titano. E questo prete, però, a un certo punto, non viene creduto, non viene ascoltato, e Manenti, dopo due anni in cui avrebbe commesso questo omicidio, addirittura viene nominato reggente, anche perché poteva contare sulla condiscendenza del commissario della legge Blasi, che è un altro personaggio che diventa commissario della legge pochi mesi prima che avvenga questo fatto del, questo omicidio. Che poi sarà centrale, Blasi, tra l'altro, nell'85, vero? Sì, sarà una figura centrale. Diventa commissario poco tempo prima di, praticamente, del, non dell'omicidio, della ragenza di Manenti, qualche mese prima, perché Manenti diventa reggente nell'ottobre dell'84 e lui viene nominato commissario nel marzo dell'84 e quindi nel momento in cui viene pronunciata la sentenza, praticamente Manenti o è reggente o sta per diventare reggente e comunque, insomma, alla fine Blasi lo assolve e questo contro tutte le voci che lo volevano colpevole. Tant'è vero che poi dopo Blasi verrà arrestato perché si vedrà che anche altri processi fatti da lui erano stati manomessi e Manenti, appena finita la reggenza, poco dopo, fugge da San Marino e non tornerà più. Questo dimostra, secondo me, la sua colpevolezza. Certo, direi che se avesse avuto la coscienza pulita sarebbe rimasto senz'altro. Esatto. Blasi viene arrestato, poi verrà liberato dietro pressioni del Stato Pontificio perché lui era un cittadino nello Stato Pontificio e i suoi processi verranno tutti annullati proprio per la dimostrazione che era un personaggio un poco di buono. Tra l'altro, anche prima di arrivare a San Marino, insomma, ha un retroterra personale piuttosto oscuro, insomma, piuttosto poco, poco, non adatto a un commissario della legge, diciamo così. non pulitissimo. Esatto. Quindi alla fine, insomma, rimane impunito sia Manenti, Blasi verrà liberato, anzi, poi dopo sarà determinante, no, nelle vicende che succederanno dopo l'84. Sì. e quindi, insomma, anche in questo caso il colpevole la fa Franca ma perché è un appartenente all'elite della Repubblica, questa oligarchia che in qualche maniera si difendono l'un l'altro, ecco, si proteggono l'un l'altro. Questo succederà anche successivamente con le finanze, soprattutto, perché una richiesta che verrà avanzata in continuazione sarà quella della trasparenza delle finanze, cosa che non si otterrà nemmeno nel corso del 1800, anche se poi nel 1830 cercheranno con l'istituzione di una commissione finanziaria di risolvere questo problema della oscurità delle finanze pubbliche ma non ce la faranno perché poi gli scandali finanziari avverranno oltre oltre fino, anzi, uno dei motivi che ha portato la Rengue nel 1906 sarà proprio uno scandalo legato a uno stock di Franco Bolli che vendono in maniera insomma poco pulita. Beh, avevamo dei soggettini abbastanza raccomandabili nel nostro Stato nel 1800, devo dire la verità. Leggendo le fonti insomma l'idea che mi sono fatto è che siamo forse quanto di più lontano da questa valle felice descritta da qualche utopia del tempo. Sì, ma è anche comprensibile perché un paese piccolo a governare erano sempre le stesse famiglie, gli stessi personaggi si proteggevano l'un l'altro l'oligarchia non ha soltanto dei demeriti perché sennò saremmo ingiusti insomma se siamo arrivati dove siamo arrivati politicamente molti meriti ce li ha l'oligarchia. È chiaro che in qualche maniera però si ricompensava ecco di questa protezione o di questa governabilità che assicurava comunque al paese. Non eravamo diversi perché se vai a leggere i testi di storia del riminese di quel periodo se non erano peggio meglio non erano sono epoche violente sono epoche in cui la giustizia è molto o draconiana o approssimativa quindi anche da noi abbiamo queste caratteristiche però ovviamente chi gestiva la baracca che aveva più facilità a proteggersi ad autodifendersi e chi gestiva la baracca aveva capacità di proteggersi e autodifendersi ma non aveva tanta capacità forse di proteggere o autodifendere da ad esempio bande di pericolosi criminali torniamo a Masond Labona perché a parte il nome che mi fa impazzire adesso dobbiamo dirlo perché magari sai leggono il manuale i ragazzini giovani che non sono tanto pratici del dialetto quindi lo leggono Maison invece è Masond Labona Masond Labona è tipo dialetto romagnolo Blona tra l'altro con la L Blona ok perfetto grazie per avermi corretto la pronuncia è un argomento interessantissimo perché poi ci dà là per parlare di nuovo dell'ingerenza dello stato della chiesa giusto? allora c'è un bel libro scritto da Nevio Matteini che adesso si trova soltanto nei mercatini ne ho trovato una coppia anche l'altro giorno insomma quando lo trovo lo compro perché ormai è una rarità su questo personaggio che non ha ovviamente compiuto malefatte soltanto a San Marino anzi a San Marino non ha compiuto malefatte le compiva di fuori e poi veniva a rifugiarsi e poi veniva a rifugiarsi perché comunque rispettavano i nostri confini no? non venivamo invasi per per dare la caccia a questa banda è una banda simile a quella che poi sarà in seguito quella del passatore no? Masond Labona è un nome dialettale che sta per Tommaso della Bellona la Bellona era la sua mamma lui era Tommaso Rinaldini si chiamava ed era un capobanda che ovviamente facevano scorrerie all'esterno dei confini depredavano uccidevano violentavano insomma no? si comportavano da banditi da criminali certo da criminali all'epoca e poi si rifusavano a San Marino soprattutto in Borgo perché il Borgo era ieri come oggi sede di mercato certo quindi dove si venivano a sapere meglio le notizie dove c'era la possibilità di fare qualche traffico qualche affare sì e dove c'erano bettole dove si poteva ci si insomma il Borgo tra l'altro e questo è anche un discorso interessante è sempre stato il Castello Ribelle di San Marino la redazione di storie in flanella infatti è in Borgo quindi noi quindi voi siete dei seguaci no? ma il Partito Socialista è nato da 13 borghigiani sì la Rengo insomma ha avuto molti Martelli e Gino Giacomini cioè il Borgo è sempre stata sede di una sorta di protoborghesia in conflitto con Cittano dove invece era la sede degli oligarchi dei nobili sì e quindi il Borgo probabilmente dava anche una sorta di protezione a questa gente che comunque ricompensava pagavano questo è fighissimo abbiamo un sostrato ribelle all'interno del nostro del nostro castello sì 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 ma io in tutti i libri in cui ho trattato il Borgo questo l'ho evidenziato perché è evidente ma anche la anche la mossa esatto le osterie del Borgo le osterie del Borgo parla di osterie del Borgo e le figure che in qualche maniera animano questa questa mossa di cui parleremo prima un po' ce la faremo stiamo continuando ad alzare l'hype e poi arriveremo finalmente a parlare della mossa sì però è un periodo denso quindi è un peccato non evidenziare un po' tutto quello che merita e allora insomma tornavo questo masone che aveva questo rifugio tranquillo finché lo stato pontificio non ha chiesto di poter inviare un manipolo di soldati per stare sul territorio sanmarinese perché non stavano soltanto in Borgo insomma si nascondevano un po' dappertutto è permesso che viene accordato quindi viene inviato un manipolo di 30 soldati che stazionano per vari mesi sul territorio e la banda viene debellata e quindi insomma non so che fine farà però qui con San Marino non avrà più niente che fare però qui di nuovo alziamo le mani perché per debellare questa banda di malviventi che ho organizzato ci sono ci è voluto un intervento praticamente boots on the ground esterno in questo caso dello stato della chiesa perché noi non eravamo in grado di farlo no perché noi avevamo un bargello che era il capo della polizia e degli sbirri due tre non di più quello sarà sempre un difetto fino alla fine del 1800 tra l'altro che venivano assunti soltanto nel momento in cui c'era una turbolenza particolare nel paese se no si faceva affidamento sulla nostra milizia cittadina che era composta prevalentemente da contadini insomma era una milizia cittadina antichissima perché sicuramente ce l'abbiamo dal XIII secolo in avanti però insomma molto agguerita nel corso del 1500 quando subiamo l'invasione di Borge poi altre due tentative di invasione quindi c'è il motivo per cui venga continuamente tenuta in animazione questa milizia poi dopo si rilassa si rilassa nel 1600 perché quando non ci invadono più esatto non ci invadono più e poi siamo dentro un enclave dello stato pontificio che diventa il nostro protettore e nel 1700 ci sono alcuni campi però insomma è una milizia diciamo disarmata piuttosto disorganizzata anche se vogliamo ma più che altro perché non c'erano proprio non c'era motivo neanche di tenerla in allenamento più che altro per quello si allenavano perché li facevano allenare però non come nei secoli precedenti perché non essendoci più bisogno i contadini insomma preferivano lavorare nei campi piuttosto che perdere tempo con le milizie venivano gli allenamenti venivano le esercitazioni venivano chiamati periodicamente con le campane alle adunate però siamo in epoche in cui non si sente un gran bisogno di difendere il territorio perché il territorio essendo un enclave dello Stato Pontificio è lo Stato Pontificio che in qualche maniera garantisce la nostra tranquillità la nostra protezione per cui quando succedono questi fatti vengono chiamati i militi è sintomatico quello che succede con anche questo quel racconto che ho fatto del a Palazzo Pubblico di Belzoppi sì di Belzoppi a Palazzo Pubblico cioè quando mettono sotto sedio la casa di Belzoppi per catturarlo chiamano allarme le milizie ma arrivano così insomma in maniera molto tranquilla capito l'acqua di rosi sì esatto cioè non è che sentono il pericolo oppure l'esigenza di quello è proprio evidente che ormai le milizie non erano più aggressive come lo erano in passato anche se c'erano proprio nel corso del 1700 ancora molti sanmarinesi che andavano a fare i militi i soldati presso lo stato pontificio tanto è vero che a un certo punto negli anni 60 nel 1700 viene anche emesso un bando che vieta l'arruolamento vieta i sanmarinesi di arruolarsi fuori esatto sì perché non c'erano tante possibilità di lavoro e quindi insomma molti andavano a fare il soldato di ventura il mercenario però ecco noi avevamo proprio un deficit e lo avremo anche in seguito un deficit di gendarmi di sbirri come li chiamavano all'epoca sbirraglia sì di sbirraglia pensa che nel 1874 quando noi veniamo circondati non più dallo stato pontificio che non esisteva più ma insomma dai Savoi dal nuovo regno d'Italia e una delle cose che ci impongono oltre alla creazione del consolato dell'ambasciata italiana è l'assunzione di sei gendarmi ok perché anche all'epoca siamo un secolo dopo rispetto all'epoca di cui stiamo parlando il territorio veniva considerato un territorio semi anarchico perché lo stato non ha la possibilità di garantire i confini di garantire la giustizia di garantire la tranquillità sociale e quindi insomma tra le condizioni che ci vengono dettate c'è anche questo cioè dovete assumere sei gendarmi perché ne avevano due mi sembra all'epoca non bastano per garantire la vostra e la nostra tranquillità perché è il regno d'Italia in pratica che ce li impone e questo è un problema che c'è ovviamente ancora più nel 1700 il problema tra l'altro nel 1700 che non si risolve se non con l'utilizzo di truppe di truppe straniere in questo caso dello Stato della Chiesa però questa cosa mi fa un po' pensare perché dico quando noi dobbiamo richiedere esternamente aiuto per sistemare i nostri dissidi interni c'è anche modo che si dia la possibilità allo Stato della Chiesa di credere veramente che noi siamo una loro enclave e questo forse si vede benissimo come in un caso che mi sembra emblematico cioè quello del Valenti Gonzaga in cui il Valenti Gonzaga applica questa sorta di embargo in cui fondamentalmente per un annetto quasi non possono essere trasportate merci dall'esterno verso l'interno e questa cosa rischia seriamente di metterci di mettere anche la nostra economia in ginocchio poi fortunatamente c'è l'avvicendamento quindi il nuovo legato pontificio diciamo affievolisce la misura e questo problema si va a risolvere per una dinamica però esterna cioè non perché siamo riusciti a risolvere il problema ma perché fortunatamente è cambiato il legato pontificio il clima nei nostri confronti esatto il clima nei nostri confronti quindi anche un po' adattarsi a quella che era la personalità con la quale dovevamo parlare la personalità forte e questo insomma nel settecento mi sembra un po' una costante da una parte quella di richiedere protezione quando c'è bisogno però dall'altra dire però noi siamo liberi ma da fuori questa autonomia non è percepita no assolutamente lo stato pontificio non si ha mai ritenuto ritenuti liberi tu scrivi infatti che la nostra indipendenza dal punto di vista proprio sia formale arriva con il regno d'Italia fondamentalmente sì sì il primo il primo stato Napoleone la riconosce in maniera formale eccoci arrivati qui ti volevo però da un punto di vista cartaceo cioè di un documento scritto la prima testimonianza è la convenzione con il regno d'Italia il 1862 però quello che dicevi tu torno a quello che stavi dicendo è molto corretto perché lo stato pontificio oltre a non ritenerci mai indipendenti nel 1834 Carlo Fea avvocato funzionario dello stato pontificio scrive un opuscolo sul dominio sovrano che lo stato della chiesa aveva sulle valli di Comacchio sulla repubblica di San Marino quindi insomma lo dice palese palese è scritto nero su bianco sì tieni presente che il Valenti Gonzaga era un nostro concittadino tra l'altro gli era stato dato la cittadinanza nobile questo non lo sapevo eh ma perché non l'ho scritto il manuale cioè il problema di un manuale è quello che dico nell'introduzione che bisogna dire tutto in poche parole in poche pagine quindi sono tante le cose che so in più che sono magari delle chicche delle curiosità vieni a trovarsi di più e le divulghiamo invitami ne conosco di quelle chicche ne conosco tante ottimo solo che è come quella dei pesciolini che adesso ho visto che l'hai fatto quella è bellissima quella dei pesciolini nella cisterna l'ho scoperta all'interno di una documentazione avevo fatto un articolo anni fa su questo qui l'ho messo perché per i ragazzi siccome questo si rivolge anche ai ragazzi è una chicca che a loro potrebbe piacere però ecco di quelle cose lì di storia spizzola sociale che non microstorie microstorie la chiamo infatti problemi di microstorie si intitolava questo articolo pensa te ero andato per il pennello non lo sapevo sì problemi di microstorie ma l'avevo scritto vent'anni fa forse lo devi portare adesso comunque sì trovo non mi ricordo era una rivista ma non mi ricordo quale però insomma parlavo di questo fatto perché mi aveva colpito molto il fatto di questi pesciolini d'acqua dolce che erano i filtri naturali dell'epoca ecco questo di Valenti Gonzaga che era cittadino nobile nostro è un'altra chicca che dentro un manuale è forse inutile scriverla insomma perché tanto invece in una chiacchierata tra me e te assume significato perché nonostante fosse il nostro cittadino lui insomma ci circonda per vari mesi certo quasi ci vuole affamare poi dopo per fortuna lo alzano di livello gli danno un ruolo politico più importante a Roma e arriva il cardinale Colonna che si dimostra più morbido e quindi viene tolto questo questo embargo però il sospetto rimane il sospetto che noi eravamo un paese in preda all'anarchia incapace di autogovernarsi dove avvenivano tra l'altro fenomeni di contrabbando dei prodotti di monopolio dell'epoca il sale la polvere pirica i tabacchi questi sono ed erano fenomeni che avvenivano effettivamente non solo i passaporti a volte venivano venduti i passaporti dei sanmarinesi e poi a volte veniva data no a volte spesso veniva data la cittadinanza gente che la chiedeva per avere un rifugio dove nascondersi in caso che fossero perseguitati presso lo Stato Pontificio il Gran Ducato di Toscana noi anche tutto il Settecento ma anche buona parte del 1800 ci sono se si va a esaminare la documentazione in archivio un mucchio di richieste di concessioni della cittadinanza della nobiltà cioè di quello che lo Stato Pontificio concedeva per esempio che ha concesso a Blase che ha concesso ai Belzoppi una sorta di protezione a cui richiamarsi in caso di necessità ugualmente faceva San Marino che poi dopo spesso riceveva da questi un donativo perché era gente insomma lo stesso Canova il famoso scultore è cittadino nostro diventa cittadino nostro perché chiedono la cittadinanza e lo tiene ma quella dei cavalierati quindi dati un pochino a destra manca non è una cosa nuova la novità del nostro tempo il cavalierato ovviamente dal momento in cui nasce l'ordine questo nel 59 del 1800 però prima la cittadinanza e la nobiltà anche perché come ho detto soprattutto questi potenti Valenti Gonzaga di solito nasceva la richiesta da chi era interessato anche per prestigio personale mica soltanto per bisogno insomma Valenti Gonzaga fa la richiesta e gli viene concessa ma come lui e tanti altri soprattutto il vescovo di Rimini spesso e volentieri veniva aggregato alla nostra cittadinanza perché era una figura di cui si aveva bisogno il vescovo di Penabilli di Montefiltro ugualmente quindi era una sorta di protezione che i samarini cercavano di accapararsi concedendo quel poco che potevano concedere perché non avevano i soldi quindi concedevano queste cose qui ma tra l'altro questa cosa qua adesso vado un attimo poi ritorno subito sul punto la compraventa dei titoli nobiliari noi con le nobiltà ci siamo pagati palazzo pubblico in buona sostanza o comunque una parte di palazzo pubblico l'abbiamo avviato però ci siamo pagati molte strade quello sì perché i primi soldi sono stati investiti stiamo parlando per chi ci ascolta esatto dal 1865 in poi perché io sono tipo al parco giochi in questo momento quindi sto divagando ovunque dove posso divago perché mi sto divertendo un casino però rimango sul pezzo no ti dicevo del discorso nobiliare mi ha fatto venire in mente perché comunque poi ne parleremo prossimamente ma anche il discorso del nuovo palazzo pubblico in parte viene finanziato comunque con la compraventa dei titoli nobiliari giusto? 60.000 lire vengono dati per il titolo di una duchessa di titolo di duchessa perché la nobiltà di cui stiamo parlando nel settecento non prevedeva conti, duchi, marchesi la nobiltà che nasce dal 1865 in poi invece prevede duchi, conti, marchesi baroni eccetera e ogni titolo aveva un prezzo quello più costoso era quello di duchessa 60.000 lire dati dunque negli anni 80 dell'885-86 tieni presente che che so un professore del liceo prendeva 1800 lire all'anno dipensa ecco 200 lire al mese era già un buon stipendio 60.000 lire capisci insomma fai la proporzione e il palazzo è costato 350.000 lire per cui alla fine ci ha mandato in deficit di 200.000 lire però senza quelle 60.000 lire probabilmente non sarebbe stato avviato perché hanno sistemato alcune cose il palazzo era cadente perché era puntelato con delle travi laterali e hanno cominciato il lavoro sperando probabilmente che continuasse questo mercimonio questa vendita di titoli nobiliari poi dopo però cala l'interesse perché anche la nobiltà inizia a decadere la prima guerra mondiale rappresenterà un po' la fine della nobiltà e quindi non riescono a incamerare tutti i soldi necessari per il palazzo pubblico per cui ne incamerano una buona parte però insomma 200.000 lire di debiti rimangono ed era una cifra è uno dei motivi oltre alle tasse o altre cose se mi inviti a parlare della Rengo poi ti dirò tutti i miei studi cioè dobbiamo solo segnarlo sul calendario è già sicuro ecco è uno dei motivi che darà forza ai riformisti e che porterà poi al 25 marzo 1906 cioè alla Rengo dei capi famiglia ci sono delle motivazioni molto pratiche no? perché se fossero state soltanto ideologiche la Rengo non sarebbe mai avvenuto perché la massa era contadina abbiamo quasi uno 70-80% di analfabeti per cui capirei cosa gliene fregava del governo del popolo del governo democratico questa gente qui gli interessava il pane il vino e le cose quotidiane tra l'altro il pane e il vino torniamo prestissimo perché in fine della divagazione si sta trasformando in una masterclass di storia sanmarinese ma è veramente una figata io mi sto divertendo un casino comunque poi San Borghigiano quindi lo spirito ribelle c'è quindi partiamo da 700 ma andiamo all'800 ma ritorniamo alla fine del 700 perché Werther prima hai detto una cosa interessantissima e cioè il primo riconoscimento internazionale dell'autonomia di San Marino non arriva dall'Italia ma arriva dalla Francia da Napoleone e me ne parli perché c'è questa data del 1797 tra l'altro il primo contatto capita giorno di Sant'Agata perché 5 febbraio poi dopo il 7 è un caso un caso fortuito però mi ha fatto specie mentre lo leggevo e c'è proprio un contatto diretto e Napoleone ha una gran stima della nostra Repubblica poi andremo a sviscerare bene i motivi a te la parola allora Napoleone come ben si sa inizia la campagna d'Italia nel 96 la logica era quella di accerchiare l'Austria Napoleone prendendola da sotto era un ragazzo perché era dunque lui nato nel 69 se non mi sbaglio quindi aveva nemmeno 28 anni quando è arrivato qua perché è nato il giorno di Ferragosto tra l'altro cosa me lo ricordo e da sopra invece c'era un'altra armata che non riesce a tirar fuori un ragno da un buco Napoleone invece riesce prima a conquistare Milano poi l'Alta Italia però arriva diciamo a Forlì lui è a Forlì il 4 febbraio e arriva a Rimini il 4 febbraio cioè conquistano fino a Rimini e tant'è vero che il primo contatto con noi è il 5 febbraio non da parte di Napoleone ma da parte del generale Bertier che era un suo subalterno perché Napoleone il 5 febbraio era ancora a Forlì non era nel riminese e arriva questa lettera perentoria che richiedeva la consegna immediata di Monsignor Ferretti il vescovo di Rimini altrimenti se lo sarebbero venute prendere i sanmarinesi ovviamente si erano già mossi in precedenza perché avevano già creato una sorta di commissione per avere i rapporti con i francesi tra l'altro pensa alla birbata questa commissione stranamente era composta dai tre ceti previsti dagli statuti del 1600 cioè i terrieri gli abitanti di città e borgo i contadini praticamente e l'elite l'oligarchia ecco quindi avevano coinvolto tutti quanti anche se di solito chissà perché per apparire ovviamente il più democratico possibile agli occhi di Napoleone agli occhi di Napoleone che in quel momento era repubblicano perché poi dopo sappiamo bene che diventerà un imperatore da console prima si fa chiamare poi imperatore quindi questo la dice lunga si poi crea una sua nuova nobiltà prima taglia le teste la rivoluzione francese taglia le teste ai nobili poi dopo lui creerà tra l'altro molti parenti suoi verranno nobilitati però tornando insomma al febbraio del 97 e a questa lettera i sammarinesi si trovano così spiazzati impauriti perché non sanno come verranno trattati e rispondono con una lettera che secondo me è un capolavoro di diplomazia si in cui mettono in luce cose che erano un branco i disgraziati poveri insomma che non meritava quindi conquistarli certo che erano democratici perché erano una repubblica libera da secoli addirittura la favoletta no dei tanti secoli di libertà che in realtà sappiamo bene la nostra libertà nasce nel 1300 insomma eravamo comunque sicuramente dello stato più antico così come lo siamo oggi non del 301 che è una favoletta però insomma dal 1300 al XIV secolo sì e insomma questa lettera è un capolavoro di diplomazia perché gli manifestano in maniera molto morbida molto blanda ma anche molto educata i motivi per cui non meritava insomma che invadesse San Marino e Napoleone ha invaso tutti tranne San Marino infatti è un unicum incredibile esatto e due giorni dopo che questa lettera il 5 febbraio viene spedita e arriva invece una lettera con tutt'altro il tono il 7 febbraio in cui viene detto che Napoleone non aveva nessuna intenzione di soggiogare la Repubblica e la rispettava perché era l'unica praticamente che in Europa aveva tenuto in alto la fiaccola della libertà a prescindere dai pericoli che avevo dovuto sopportare poi arriverà la famosa lettera più avanti a fine febbraio non mi ricordo male di Napoleone con la promessa dei canoni dei canoni della Biada prima gli era stata anche promessa proposta la possibilità di ampliare il territorio e anche qui un colpo di intelligenza ecco qui l'oligarchia effettivamente va lodata non soltanto biasimata perché noi spesso ragioniamo troppo da democratici però insomma bisogna ovviamente collocare quello che avviene negli spazi e nei momenti storici in cui le cose avvengono diciamo sempre un errore guardare con i nostri occhi con la nostra prospettiva altri il problema è che sebbene io sono laureato in filosofia si nasce dentro una certa mentalità da quella mentalità lo storico spesso lo storico fa fatica a elevarsi perché comunque nasce dentro un pensiero che ti avvolge fin da quando apri gli occhi insomma fin da quando cominci a capire e quindi sì bisogna dare all'oligarchia anche dei meriti indubbiamente uno dei meriti è quello di dire no noi non ci allarghiamo perché non si sa mai cosa succederà in futuro pericolo che poi dopo no vediamo infatti il congresso di Vienna non ci avrebbe perdonato sicuramente se avessimo acquisito un ampliamento territoriale soprattutto c'era il mare la possibilità di arrivare solo sul mare sarebbe stato un suicidio praticamente sì perché Napoleone non ha detto che ci avrebbe dato 2 km 5 km ha detto quello che vi serve se volete chiedetelo e loro hanno detto no noi ci accontentiamo di stare nei nostri 62 km quadrati perché non si sa mai cosa può succedere però ti ringraziamo perché sei il primo che ci distingue dalla turba dei servidi dicono anche questa è una frase che mi è rimasta impressa da quando l'ho letta la prima volta tanti anni fa cioè loro capiscono che per la prima volta nella loro storia non devono combattere con chi mette in dubbio l'indipendenza dello Stato Napoleone perché ha fatto questo qui siamo nel campo dell'ipotesi perché io lo dico chiaramente dentro il manuale insomma l'hanno detto anche altri perché gli era più conveniente risparmiarci che non occuparci assolutamente perché noi avevamo già un mito a livello internazionale a livello internazionale sì guardavo proprio oggi che mi hanno fatto una domanda all'inizio del 1700 viene diffuso il il mortier non so se sei presente è una stampa la famosa stampa quella doppia no? con il monte che si vede sopra e sotto ok sì che è in realtà una stampa del ble del 1663 solo che il mortier la riprende e agli inizi del 1703 la pubblica all'interno di un testo ed è diventa una stampa diffusa un po' in tutta Europa quindi diciamo agli inizi del 1700 San Marino comincia a essere conosciuto anche iconograficamente non soltanto come mito che quello avevamo già contribuito nel 1600 vari letterati eccetera tanto è vero che i francesi poi saranno quelli che più scriveranno di noi nel corso del 1800 ci sono mucchi di manuali spesso pieni di stupidaggini insomma di errori la nostra storia è stata maltrattata in tanti da tante persone purtroppo continua ancora oggi adesso non voglio affondare nota polemica che però essendo a Borgo ce la possiamo assolutamente permettere Castello di Rivoluzionari ti sei cascato tu adesso recentemente con quell'errore ecco non diciamo altro che poi dopo ti ho corretto perché il problema è che chi diffonde storia bisogna che sia preciso perché se no diffonde la storia in chi non ha delle difese culturali proprie diventa verità per questa gente ed è quello che è successo col 301 è quello che è successo con tanti fatti del nostro passato quindi bisogna essere precisi piuttosto che dire una sciocchezza è meglio non dire niente questo è fuori dubbio ecco comunque tornando al discorso insomma di Napoleone Napoleone effettivamente ci riconosce perché eravamo poveri eravamo disgraziati eravamo una repubblica e lui in quel momento è profondamente repubblicano insomma probabilmente fa un calcolo opportunistico mi conviene mettere sottomettere questi qui oppure no San Marino già aveva avuto i suoi problemi con l'Alberone lo sappiamo però aveva avuto anche molti difensori della corte papale dei diplomatici che erano presso la corte papale nel momento in cui siamo stati soggiogati per cui c'era Napoleone niente che conoscesse un pochino questo fatto che gli abbiano raccontato sapeva che già all'epoca c'era stata una sorta di sollevazione si erano mobilitati gli austriaci gli spagnoli a supporto di San Marino quindi oltre alle lettere dei sanmarinesi era arrivata tutta questa sorta appunto di cordata internazionale di supporto e di amicizia che non è cosa da poco il papa a parte l'Enriquez l'ha dovuto mandare per verificare perché il papa aveva molte persone che contrastavano questa sottomissione di questo paese pacifico di questo mito perché alla fine quei personaggi che ci hanno dipinto come un ose di pace ci hanno fatto anche del bene nel 1600 assolutamente perché noi sottomettere un ose di pace era come insomma schiacciare una pulce da parte di un elefante quindi era conveniente o non era conveniente probabilmente Napoleone ha fatto il discorso della convenienza oltre che ideologica repubblicana e tutto quello che vuoi e alla fine insomma ci ha difeso non solo poi dopo ci ha concesso anche un paio di trattati all'inizio del 1800 di natura commerciale non politica vantaggiosi e siamo insomma io una volta ho scritto un articolo Napoleone è un vero amico perché effettivamente si è dimostrato tale con noi è vero e oltre alla vera amicizia di Napoleone però a San Marino sono arrivate le biade non sono arrivati i cannoni ma sono arrivati e così entriamo finalmente nel discorso clou del famoso 97 sono arrivati sicuramente anche gli ideali napoleonici gli ideali illuministi e questa cosa ha portato piano piano a sempre nel borgo Castello Rivoluzionario oggi abbiamo certificato per eccellenza ha portato alla mossa del 1797 qui mi parli assolutamente della mossa tu io voglio solo introdurla perché mi fa impazzire questa rivolta popolare nata per la scarsa qualità del pane perché poi si accoda come tu spieghi giustamente un discorso politico ma la rivolta popolare nasce perché il pane fa schifo fondamentalmente e il vino viene esportato esatto e quindi calano le scorte interne non è una richiesta soltanto nel 97 c'è anche in precedenza e ci sarà anzi lo preannuncio ho scritto un libro sul pane di San Marino sull'alimentazione che uscirà spero è un annuncio indirettissimo quindi esatto il prossimo libro di Werther Casali è un libro sul pane il prossimo è la prossima settimana che viene presentato l'altro giorno la regenza sull'azienda autonoma dei lavori pubblici il 15 anzi faccio un po' di pubblicità anche se poi non ci guadagni niente però più che altro se qualcuno è interessato è un bel libro sull'azienda autonoma dei lavori pubblici che verrà presentato il 15 nella sala del borgo lì di fianco l'ex international ci saremo ecco se vi interessa il libro dopo l'azienda lo darà anche successivamente però insomma quel giorno lo presentiamo quello è il mio trentesimo libro tra l'altro mi sono per la prima volta li ho contati tutti con regolarità perché non sapevo bene il numero poi dopo il trentunesimo sarà questo qui questo sull'alimentazione soprattutto sul pane di San Marino quindi ho fatto un'indagine per vedere questa richiesta del 97 se era unico oppure no no viene ripetuta periodicamente sia prima del 97 sia nel corso del 1800 perché perché il pane era l'alimento base di tutti soprattutto dei disgraziati tra l'altro aveva un prezzo politico perché veniva venduto a un baiocco a pagnotta variava il peso del pane in base ovviamente all'ordine che veniva al decreto che veniva emanato nel nostro caso dal consiglio cioè dal governo però la pagnotta a prescindere dal peso costava un baiocco perfetto e dove fregavano i panfangoli come si chiamavano cioè i panettieri sulla qualità non potevano fregare sul peso e nemmeno sul prezzo e allora alteravano le farine perché l'obbligo era quello di usare la farina bianca o la farina scura ecco per un pane più economico alteravano le farine mescolandole con altre farine di qualità inferiore insieme sì quando erano farine perché magari potevano anche usare altri altri sistemi e il pane ovviamente veniva fuori con un sapore poco gradevole certo e allora queste richieste ogni tanto appaiono queste suppliche perché all'epoca venivano chiamate suppliche appaiono nel consiglio anche prima nel 97 nel 97 però viene presentata una supplica nella larengo semestrale del mese di aprile in cui chiedono in cui viene richiesto miglioramento del pane del vino e subito viene detto sì sì dal parte dei governanti sì sì vi accontentiamo state tranquilli però questa gente qui era già animata sicuramente da quell'ideologia rivoluzionaria importata dall'illuminismo che era arrivato anche se a poche persone però era arrivato anche a San Marino e poi insomma dalle truppe napoleoniche che erano praticamente intorno ai nostri confini e quindi a un certo punto dopo poco si rendono conto che non stavamo facendo niente né per migliorare il pane né per evitare l'esportazione del vino e si forma un gruppo in borgo certo pilotato da un certo Giuseppe Moracci che comincia ad andare nelle varie cantine del borgo ce ne erano diverse per inventariare il vino perché volevano portare l'inventario al regente nobile e dire questo è il vino che è attualmente qui e non vogliamo insomma che cali per esportazioni questo nasce dal fatto che di fronte alla cantina di Mazzassette si chiamava il cantiniere questo Moracci si rende conto che stavano caricando delle damigiane di vino su un caretto dei forestieri cioè gente che non era di San Marino per portarlo via allora rimedio una furia ovviamente rimedio 20 persone lì attorno insomma probabilmente insomma andandole a chiamare nelle Betle o dovunque fossero lì in borgo e obbliga questi qui a scaricare il vino e comincia a fare l'inventario di questa cantina che era una cantina di build up no non mi ricordo comunque Mazzassette del cantiniere questo me lo ricordo e poi dopo vanno cantina per cantina per fare continuare l'inventario la cantina Benzoppi si rifiuta di aprire loro il portone cosa fanno lo buttano giù lo buttano giù e quindi alla fine fanno l'inventario di tutto questo vino lo portano al reggente e lui dice state tranquilli che ci penso io in realtà poi dopo come succedeva questi questi qui che si sentivano l'elite del paese se ne fregavano insomma in fondo di queste istanze e non succede niente allora la protesta si incancrinisce sempre più e da un centinaio di firme che uno ha raccolto con questa prima istanza col pane e il vino portano poi un giorno in cui si riunisce il consiglio sul pianello parecchie persone e presentano un'istanza dove il pane e il vino non c'è più e ci sono richieste di trasparenza dei conti pubblici abolizione della nobiltà ritorno agli statuti del seicento abolizione dei decreti draconiani che erano sorti nel corso del 1600 nel corso del 1700 e quindi insomma diventa una protesta politica metamorfosi completa da una protesta sociale diventa totale protesta politica non solo anche in questo caso gli viene risposto sì sì state tranquilli poi anche il ritorno al numero dei 60 consiglieri perché pur dovendo essere 60 erano di meno insomma quindi chiedono il reintegro del numero statutario ok convinti di avere in qualche maniera ottenuto la vittoria addirittura vanno in pieve dopo che gli erano state fatte delle garanzie e per ringraziare San Marino che li aveva in qualche maniera appoggiati non succede niente tornano su il pianello in 88 abbiamo un numero preciso perché qualcuno li ha contati e durante io queste informazioni le ho ricavate tutti gli atti processuali a cui sono stati sottoposti poi questi disgraziati successivamente quindi abbiamo già raccontato che non è finita benissimo esatto fatto sta insomma che tornano su quando si doveva svolgere un altro consiglio ammucchiano le fascine ai piedi del palazzo pubblico avevano portato in precedenza le armi in casa della muratora una donna che faceva il muratore perché all'epoca anche le donne facevano il muratore che da quel che ho capito abitava aveva la casa nei pressi del cantone ed erano pronti a prendere le armi se non avessero rispettato quelle richieste che poi erano sempre le stesse ritorno al statuto il 60 trasparenza dei conti pubblici eccetera fanno un po' bruciamo il palazzo pubblico se voi non siete atleta quindi fanno veramente sul serio un po' una trasposizione di quello che racconta Barbero nella rivolta dei cionpi noi bruciamo la casa e noi lo facciamo col palazzo pubblico sì sì avevano ammucchiato le fascine ai piedi però si sono dati praticamente la zappa sui piedi loro invece perché quando i contadini si rendono conto che la protesta non riguarda più l'alimentazione ma riguarda la politica di cui non sappiamo assolutamente nulla quando c'è la minaccia al principe con le fascine e con le armi fanno praticamente poco dopo inoltrono una supplica in cui chiedono perdono e quindi da un centinaio di persone che erano alla fine si dicono quattro gatti i quattro capi popoli insomma che in qualche maniera tra cui quel Morazzi che ti ho detto quella chicca che ti volevo dire è che quando hanno reintegrato il numero di 60 ovviamente hanno messo dentro anche Morazzi perché no una furbata ecco cioè è incredibile eh ma di usavano quelle strategie la politica le strategie da banchi e vei in poi le ho sempre usate è vero probabilmente anche prima però insomma si stupia assolutamente anche prima diciamo mi occupo di un di qualche secolo prima e queste strategie ci sono sempre però fa veramente riflettere sorridere trovarle applicate in questa maniera qua perché sono proprio palesi si 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 Morazzi viene nominato consigliere sui due piedi perché lui era uno di quelli che aveva fomentato un po' tutto quanto fatto sta che i contadini si ritirano vengono perdonati perché anche questo l'ho pubblicato non mi ricordo mi sembra forse nel delito Bonelli perché sono stati fregati nella loro ingenuità nell'essere sempliciotti come erano quindi insomma si capisce proprio le caratteristiche tipiche del contadino e quegli altri si crea una guardia civica si crea uno strumento di repressione e vengono perseguitati alcuni vanno a finire in galera alcuni riescono a fuggire dal territorio addirittura vanno al comando generale dei francesi a Forlì mi sembra che fosse per chiedere un intervento i francesi se lo guardano bene ovviamente certo erano 4 scappati di casa e alla fine finisce tutto in una bolla di sapone questi qui poi verranno perdonati in maniera ufficiale dal processo nei primi anni del 1800 1804 per cui per un po' stanno in galera poi dopo vengono perdonati e Morazzi poi avrà un'occasione anche successivamente di far parte di un gruppo di protesta e dirà caro mio me ne guardo bene di rifare una protesta perché alla fine insomma ti volevo dire di questo Morazzi siamo finiti in 4 quindi questo Morazzi tra l'altro è una figura curiosa perché era già finito in galera da bambino sai perché? ok perché era penetrato in una chiesa e forse per fame aveva mangiato l'ostia le ostia consacrate cosa ovviamente in quest'epoca proibitissima un tabù un tabù assoluto è finito in galera che era un bambino perché all'epoca insomma anche i bambini finivano in galera quindi lui probabilmente aveva anche un senso di rivincito di rivalse verso verso questa incarcerazione che aveva subito per aver mangiato delle ostie non è che avesse rubato nient'altro quindi l'errore di questa mossa fondamentalmente Werther se leggo bene le tue pagine e se interpreto bene le tue parole è di aver trasformato quella che era un'istanza inizialmente popolare anche dal punto di vista proprio sociale in una rivolta prettamente solo politica cioè abbiamo provato a fare una rivoluzione francese da noi ma non eravamo certi francesi non eravamo pronti a fare le rivoluzioni loro quelle le sanno fare noi un po' un po' meno forse sì beh altra mentalità siamo sempre lì insomma noi comunque eravamo all'interno dello stato pontificio pretendere che un contadino un alfabeta possa capire cosa vuol dire tornare gli statuti del seicento democratizzare andare contro il principe e andare contro tra l'altro poi c'è da dire che questi oligarchi spesso erano i padroni dei terreni su cui i contadini lavoravano per cui andare contro il principe significava andare contro i loro padroni cioè contro coloro che in qualche maniera gli garantivano un tozzo di pane un po' un po' di lavoro questo c'è sempre stato tant'è vero che i contadini che entravano in consiglio siccome si usava il sistema della cooptazione erano i contadini che in qualche maniera venivano favoriti dai loro padroni e che quindi appoggiavano i loro padroni nel consiglio cioè è un circolo vizioso un sistema clientelare fondamentalmente molto molto simile a quello che è il sistema del patronato romano adesso io studio quell'epoca lì quindi mi viene in mente questa analogia qua ma è veramente speculare cioè il contadino si associa diciamo all'uomo forte di quel momento lì richiede appunto dai suoi servizi a quell'uomo e quell'uomo in cambio gli dà sì protezione politica ma anche qualche vantaggio da un punto di vista politico quindi lo inserisce all'interno del nel caso di Roma non all'interno del senato ma comunque lo tiene lo tiene intorno alla sua entourage e il contadino vive una vita più dignitosa rispetto a quella che poteva essere esatto un sostegno infinito e perpetuo per chi lo favorisce da un punto di vista sia lavorativo sia politico ma sarà così anche con le prime elezioni politiche di San Marino nel 1906 ne parleremo in futuro perché anche lì vedremo che molti oligarchi chiamiamoli ancora così verranno votati magari non nel castello d'origine ma nel castello dove avevano i terreni dove avevano le proprietà e dove avevano i lavoratori quindi insomma è una roba che dura lungo allora Werther facciamo così visto che ci siamo lasciati su questo 1900 io prendiamo già finito la nostra chiacchierata a calendario ci segnaliamo il prossimo evento e ti rinvito assolutamente per la Rengo del 1900 perché abbiamo fatto penso un'ora e dieci di podcast a me è volata mi sembra essere veramente mi sembra di aver iniziato dieci minuti fa ti ringrazio però prima c'è tutto l'Ottocento hai ragione c'è tutto l'Ottocento quindi ci dobbiamo fare una tappa intermedia che è molto più articolato del Settecento però diamo anche questa anticipazione in chiusura ci ritroveremo insieme in un modo o nell'altro con altre voci ci sarà un altro episodio molto significativo su un personaggio del quale ancora non possiamo dire nulla perché c'è segreto di stato ma ci troveremo molto presto insieme di nuovo ad un tavolo a parlare di storia sanmarinese ben volentieri per me è stato un onore incredibile io mi sono divertito tantissimo anche io è stata una chiacchierata davvero piacevole adesso ti devo chiedere perché noi finiamo sempre in questa maniera qua quindi per noi è un rituale perché anche se siamo borghiziani ribelli ma abbiamo questo rituale salutiamo sempre la telecamera dicendo io dico è fino alla prossima e noi rispondiamo saluti e poi Luca manderà la nostra sigla se sei d'accordo lo facciamo qui devo dire saluti esattamente è una roba semplice è una roba semplice e fino alla prossima saluti